E dalla festa del cinema di Roma abbiamo una cantante gospel Buonasera, sono Falfa Tuchinè e vengo dal Senegal Sono una cantante gospel di swing e jazz Senti, ma tu hai partecipato a un corto presentato a Venezia Adesso mi faccio un po' di rivalità a Roma-Venezia Ho partecipato a The Woman Angels, regia di Emanuele De Zocco Cosa hai fatto nel film? Ho cantato due brani, un brano del gospel, Amazing Grace E ho fatto una canzone di Amy Winehouse Dai, intoneci un pezzo, rallegriamo questo festival che è un po' muccio Senti, la cosa più difficile che sta... Se c'è stata una cosa difficile sul set Quando si è sul set, che cosa ti rimane più difficile o non difficile? No, in realtà non mi rimane niente difficile perché canto, ho fatto tantissime esperienze anche al cinema Di conseguenza mi risulta facile, fortunatamente Quindi il set è la tua casa? Sì, si può dire di sì, perché anche quando uno canta sta sempre sul set Senti, in questo periodo di lockdown, di restrizioni, purtroppo Come porti avanti il tuo lavoro? Il mio lavoro purtroppo è fermo, come tanti di noi Lavoriamo a casa, studiamo Quel tempo lo usiamo per studiare E poi, prima o poi, si riaprirà tutto, no? Si ricomincerà da capo C'è bisogno di avere pazienza L'importante è essere positivi Positivi nel senso giusto Sempre positivi Grazie Grazie a lei, a voi